Sit-in di protesta di infermieri precari della ASL BT che il prossimo 31 ottobre vedranno concludersi i loro contratti con l'azienda ospedaliera. Una vicenda ingarbugliata perché dopo le rassicurazioni arrivate una decina di giorni fa e ben due determine di proroga, prima di tre e poi di due mesi, è arrivata la doccia gelida da parte della ASL. Determina annullata e nessun rinnovo di contratto per gli infermieri precari. Sotto la ASL BT questa mattina hanno iniziato la loro protesta alcuni dei 120 infermieri, gli altri invece erano regolarmente a lavoro in servizi essenziali per la comunità, come per esempio in pronto soccorso ed in medicina negli ospedali del nord barese e così via. Maschere bianche e capestro alla gola, gli infermieri hanno voluto chiarificare in modo tangibile il sentimento che anima la protesta. La richiesta non può che essere quella di lavoro e dignità. Oggi stiamo vivendo noi qui nella nostra ASL, è una situazione veramente di indecenza, perché comunque ci stanno proprio calpestando quello che è la dignità nostra di lavoratori e rispetto proprio per la persona, perché a distanza di tre giorni noi ancora non sappiamo che cosa accadrà dei nostri contratti. Questa amministrazione ci ha un po' beffato e di riso, perché qualche giorno fa è uscita una delibera in cui si parlava di un rinnovo. Dopo qualche ora questa delibera è stata ritirata. Qua stiamo parlando di persone, non di carte, non di facce che non hanno né nome né cognome, ma stiamo parlando comunque di dignità e noi chiediamo che comunque questa dignità venga ad oggi rispettata, anche perché c'è un percorso nel quale noi precari rientriamo, che loro stanno totalmente calpestando, che è un percorso che ci porta ad uscire dal precariato, facendo sì che loro possano darci 36 mesi e quindi poter poi accedere in una riserva, in un 50% di riserva al prossimo concorso che vogliono indire.